Siamo col capitano della Sartorelli Aspo, Patrizio Stefanini. Patrizio, è terminata una stagione anche con una giornata di anticipo, avete ottenuto la salvezza nel campionato di Serie C, però lo possiamo dire è stata una stagione travagliata, una stagione molto difficile. Ah guarda, non si dovrebbe dire, ma finalmente quest'anno è terminato, a parte gli scherzi, perché è stata una stagione impegnativa dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista gestionale, da tutti i punti di vista. I ragazzi, io per primo siamo arrivati abbastanza stanchi a fine anno, quindi va bene così. Patrizio, sono cambiate anche molte cose durante il corso della stagione, si era partiti in un modo con diversi giocatori, anche dei giovani da far crescere, poi il progetto è un po' cambiato strada facendo, con alcuni ragazzi che hanno lasciato, la società costretta a richiamare qualche giocatore più esperto per terminare la stagione, anche questo insomma non è stato facile da gestire anche per voi in campo, no? Con la squadra che cambiava sempre. Allora, sì, l'hai riassunta abbastanza bene, non è stato facile perché non siamo riusciti anche, diciamola a livello societario a mantenere una linea ben chiara. Abbiamo navigato un po' a vista, diciamo che in questo modo di fare abbiamo fatto il meglio che abbiamo potuto, quindi ringraziamo anche chi è intervenuto durante il corso dell'anno per far sì che questa squadra si sia salvata, e però ci siamo un po' allontanati da quello che doveva essere l'obiettivo iniziale, questo sì. Vediamo se riusciamo a recuperarla questa cosa. Però l'obiettivo salvezza poi alla fine con tante difficoltà l'avete raggiunto lo stesso e quindi questo è un dato, diciamo, oggettivamente positivo. Allora, l'obiettivo in quanto tale agonistico è stato raggiunto, e comunque la crescita di qualcuno c'è stata e ci tengo in particolar modo a sottolineare proprio l'ultima partita in casa con Genzano dove abbiamo sfoderato una prestazione di livello con tre giovani in campo che poi, se vai a vedere, era la formazione che a settembre la società aveva ideato e questo mi fa piacere e quindi mi fa beh sperare nel caso in cui dovessimo perseguire questa linea. Stefani, non è facile perché avete finito solo questa settimana nel campionato, però riusciamo a dare uno sguardo al futuro cercando di immaginare quella che potrebbe essere la Sartorelli-Asp del prossimo anno, di quest'estate? Allora, l'Asp potrebbe essere tutto e niente, nel senso che con le chiacchiere da bar potremmo fare quattro formazioni diverse. Io direi che probabilmente intanto l'Asp si deve fermare un attimino, tirare una riga, vedere da cosa poter ripartire perché, come dicevamo a microfoni spenti, purtroppo i talenti non te li puoi creare, non puoi decidere le nascite, le altezze e tutte queste cose qua. L'unica cosa che puoi creare è una linea di continuità in casa tua, partendo soprattutto dai tecnici, dai dirigenti e da chi gestisce tutta la casa, diciamo. Quindi, secondo me, è il momento che l'Asp faccia un po' di chiarezza in casa per poi ripartire in maniera corretta.